Ciao. Io sono Anna. E in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie turca Endless Love. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. Recentemente, è emersa una situazione emozionante e complessa tra Cruz, Alonso e la giovane Catalina, un evento che porta alla luce sentimenti di nostalgia, rivalità e desiderio di riconciliazione. La scena si apre su Cruz, che racconta ad Alonso il suo turbamento nel trovare Catalina nell'abito da sposa della sua defunta mamma, Carmen. Una visione che ha colpito profondamente la Marchesa, tanto da farle esclamare, ho sentito una coltellata al ventre. Questo abito non è solo un vestito. Rappresenta il passato, l'eredità di una figura che continua a vivere nel cuore e nella mente della famiglia. Il dilemma della Marchesa. Nonostante il dolore, Cruz ha cercato di mantenere la forma, dimostrando una forza interiore ammirevole. Ha persino offerto consigli a Catalina su come ritoccare il tessuto, un gesto che denota una certa generosità e il desiderio di connessione. «Sono stanca di fare la cattiva», ha confessato al marito. Parole che sembrano racchiudere il suo desiderio di liberarsi dal peso della rivalità. Alonso, dal canto suo, ha visto nella scelta di Catalina non una provocazione nei confronti di Cruz, ma piuttosto un tentativo della giovane di avvicinarsi alla figura materna. La sutura tra passato e presente è delicata, e le motivazioni di Catalina sono un mix di ammirazione e desiderio di affermazione nella famiglia. La memoria di Carmen. Rimasto solo dopo questo scambio emotivo, Alonso ha colto l'occasione per congratularsi con Catalina per la sua audace scelta. Con una dolcezza che solo un padre può avere, ha ricordato il giorno in cui vide Carmen avviarsi verso l'altare in quello stesso abito. Le sue parole, «era un angelo caduto dal cielo», risuonano come un tributo alla bellezza e alla grandezza dell'amore perduto. I timori di Cruz. Ma quali sono i pensieri di Cruz in questo intricata dinamica? La Marchesa teme che Alonso non abbia mai realmente superato la perdita di Carmen. Si chiede se si senta all'altezza e, cosa più importante, se permetterà a Catalina di mantenere vivo il ricordo della prima Marchesa di Luian. La questione non è solo di rivalità personale. È una battaglia interiore tra l'amore per la famiglia e il timore di essere costantemente confrontata con il passato. In questo intricato intreccio, le emozioni umane si mescolano con le tradizioni familiari, dando vita a una storia che risuona profondamente in ognuno di noi. Cruz, Alonso e Catalina si trovano a dover affrontare le ombre del passato mentre cercano di costruire un futuro insieme. L'abito da sposa, simbolo di riti e memorie, ricorda a tutti noi che il passato e il presente possono coesistere, ma richiedono comunicazione, rispetto e, soprattutto, amore per essere armonizzati in un'unica narrativa.